Mi chiamo Tania, ho 29 anni e sono del Connecticut. Sono uno spirito libero. Ho un carattere ribelle che sto imparando ad accettare. Mi piacciono gli abiti corti e un po' succinti. Potete chiamarla pazzia, ma è solo fiducia in me stessa. Noi siamo qui a chiedere di combattere per la democrazia! Sono una barista e un attivista politica. Mi interesso di politica, economia e diritto al voto. Nessuno di voi potrà mai impedirci di dire la nostra opinione! La mia passione è aiutare le persone a essere parte del cambiamento. In passato non è che abbia frequentato molti ragazzi, perché non ne ho mai avuto il tempo. L'unica relazione seria che ho avuto era veramente tossica. Lui era troppo geloso, così... Ho imparato a non accontentarmi di un uomo che non mi merita e sono rimasta single per sei anni. Ma poi ho conosciuto un ragazzo su un'app di incontri. È scattato subito un bel feeling, ma il caso ha voluto che il giorno dopo avesse prenotato un volo per il Sudafrica. Ne abbiamo parlato un po' e... Anche se assurdo mi ha comprato un biglietto. Così l'ho raggiunto! Ma non si è rivelata una gran bella persona. Non si è comportato molto bene con me e una notte l'ho piantato in asso. Sono andata in un pub, ho preso da bere, ho conosciuto delle ragazze. E poi c'era questo barista molto carino e parlando mi ha detto di chiamarsi Sinjin. Lui ballava, mi sorrideva e... Quella sera sono andata a casa con lui e non ci siamo più lasciati. Eccola che arriva! Un saluto dalla fantastica Camps Bay in Sudafrica. Per dirvi che... Awe, Alice is Lacker, brah!